Vengo da Torino in Italia. Barcellona penso che sia una città quasi magica. L'architettura è molto particolare, unica nel suo genere e poi diciamo che è molto vicina a come piace a noi italiani, quindi calda, accogliente. Ho scelto Icos perché ho visto che utilizzava una tecnologia che non avevo mai sentito prima. Mi è capitato così per caso su internet. Poi ho letto alcune pubblicazioni su PubMed e mi sono convinto. Ad essere sincero, all'inizio ero un po' scettico, quindi ho ricercato molto su internet. C'è un sito per tutte le pubblicazioni scientifiche, si chiama PubMed. Ho letto le pubblicazioni fatte dal dottor Grimaldos e mi sono convinto. La tecnologia è veramente innovativa, quindi mi sono detto perché no. Quindi il mio grado di partenza era un grado 3. In tutto avrò bisogno di tre fasi. Adesso ne ho fatte due, quindi l'ultima sarà fatta a breve. Il costo, dire il vero, non è molto proibitivo. Io pagai addirittura uno sconto, penso che fosse del 10%, per la questione della pandemia. Quindi penso che in realtà il costo sia abbastanza accessibile paragonando la qualità del servizio. Il dottor Grimaldos è veramente un dottore, quella di maiuscola, è molto molto professionale. Lo staff è gentilissimo, mi sento sempre accolto. Penso che Icos, veramente, come ho detto in precedenza, lo staff ti accoglie nella migliore maniera possibile. Quindi già da subito, quando sono arrivato, mi sono sentito a mio agio.